Subito un referendum per il Veneto e l'appello del Presidente Zaia che punta dritto verso l'indipendenza. Migliaia di militanti invadono Cittadella per la festa del partito. Sul palco i grandi nomi del Carroccio, da Salvini a Bossi. Stasera riunione basilare del comitato che riapre per riaprire il Tempio Sario. Sul tavolo i risultati dell'indagine sullo stato di salute del monumento. Depositate le liste per le elezioni provinciali di Vicenza, la Lega corre sola e va all'attacco della grossa coalizione provariata. In commissione consigliare il cambio degli orari e delle modalità di accesso alla ZTL di Bassano che in futuro potrebbe anche ampliarsi. Calati con delle funi per studiare da vicino i problemi del monumento, nuova giornata di monitoraggio sul Ponte Vecchio. Acquista 4 quintali di rame con 100.000 euro rubati, la truffa scoperta dai carabinieri di Riese Pio X. Gioco e divertimento protagonisti nella domenica bassanese con la nona edizione di Città dello Sport. Buonasera da Bassano del Grappa. Dunque in apertura del nostro telegiornale il raduno nazionale della Lega Nord a Città dello. L'Alta Padovana è stata letteralmente invasa da migliaia di militanti. Un'occasione per la Lega Nord per ribadire con forza il tema del referendum e dell'indipendenza. La legge è molto chiara, prevede l'indizione con una data, il confronto giuridico con il governo che ha avuto il coraggio di impugnare questa legge che è l'emblema della democrazia e poi ovviamente la raccolta dei fondi che dovrà essere tra i privati e quindi non pesare sulle casse della Regione e dello Stato. Fa chiarezza il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Il tema ancora una volta è quello del referendum per permettere ai cittadini di votare sull'indipendenza. Occasione del nuovo dibattito ieri a Città dello, la festa del partito, che ha riunito migliaia di militanti della Lega Nord provenienti anche da fuori regione. Presenti anche numerosi big del carroccio. Matteo Salvini, Flavio Tosi, Roberto Calderoli, Roberto Maroni, Umberto Bossi, parlamentari e istituzioni locali. Intanto in Veneto si procede sulla costituzione del referendum che vede già diverse forze politiche unite nella stessa direzione. Il centro-destra ha già votato a mani piene questi due referendum che sono quello per l'indipendenza e l'autonomia. Ricordo che abbiamo due leggi referendiarie, ricordo che su questi presupposti possiamo anche avere una condivisione di un percorso assieme, visto e considerato che per arrivare all'indipendenza si può condividere una roadmap molto importante per l'autonomia dei nostri territori. Il passaggio ora è quello tra i più delicati e per passare dalle parole ai fatti a giudicare dalla voce del Presidente Luca Zaia sembra davvero mancare poco. Siamo nella condizione nella quale si avvierà questa settimana il famoso conto corrente per la raccolta dei 14 milioni di euro e ovviamente siamo combattivi davanti al Governo perché difenderemo la nostra legge che il Governo ha avuto il coraggio di impugnare. E a chiedere il referendum assieme al Presidente Luca Zaia anche altri nomi importanti della Lega Nord presenti ieri a Cittadella. Li abbiamo incontrati. È una giornata di partecipazione, di passione e di futuro. La Scozia ha potuto scegliere, è giusto che si possa scegliere anche in Veneto, anche in Lombardia, anche in Salento, anche in Sardegna. Lo Stato centrale così come è organizzato non funziona. E Bruxelles sta massacrando tutta quella che è la nostra economia. Non voglio morire né schiavo di Bruxelles né schiavo di Renzi. Hanno fatto apparire il risultato della Scozia un risultato negativo, in realtà non è. La Scozia ha vinto perché ha scelto e ha vinto anche se ha perso perché Londra è stata costretta a promettergli soldi, poteri, competenze, autonomia. Quindi se un popolo sceglie ha vinto a prescindere. Il problema è che nel Regno Unito hanno la regina Elisabetta che è democratica. Noi abbiamo Renzi e Napolitano che non sono altrettanto democratici. Nel dopo Scozia una giornata come questa che valore ha? Diciamo che parte la battaglia, di parte, contro Roma, padrona, che la gente vuole indipendere. E ora andiamo a Bassano dove ci sono importanti novità in vista per il Tempio Sario all'ordine del giorno del Comitato per la riapertura. I risultati dell'indagine conoscitiva che chiarirà come e dove si dovrà intervenire per riaprire e rirendere visitabile il Sacrario. È prevista per questa sera una nuova riunione del Comitato nato su iniziativa di Rete Veneta per riaprire il Tempio Sario. Dopo il voto all'unanimità con il quale il Consiglio regionale si è impegnato ad operarsi per un'apertura in tempi brevissimi del Sacrario, l'attività del Comitato, che conta al suo interno personalità del mondo politico, culturale e imprenditoriale, si rafforza. Stasera poi all'ordine del giorno c'è l'analisi dei risultati sullo stato del monumento, ottenuto grazie anche ai sorvoli di un drone dotato di telecamere ad alta definizione, ultima fase di una serie di indagini conoscitive iniziate a luglio. I droni sono stati gli ultimi strumenti che abbiamo utilizzato per effettuare indagini aeree e indagini anche termografiche in tutte le strutture, tipo i campanili, tipo la facciata, nelle quali non esisteva la possibilità meccanica per il momento di poter accedervi con ponteggio e via dicendo. Gli esperti di restauro conservativo della ditta Fiorin di Treviso intendono offrire una radiografia dettagliata del Tempio Sario. Si tratta di un passaggio fondamentale dal quale si potrà passare alla fase di progettazione degli interventi necessari. Il drone sostanzialmente ha misurato tutto quanto l'edificio, il drone ha potuto effettuare delle indagini termografiche anche in quota, in molte parti dell'edificio dove noi avevamo rilevato da terra la possibilità che in quelle zone ci fossero degli assorbimenti di umidità superiori al tasso normale di equilibrio di queste strutture. Depositati oggi i nomi dei candidati, delle liste che si contenderanno il governo della provincia di Vicenza tra meno di un mese, la Lega Nord corre da sola e va all'attacco della grossa coalizione provariati che comprende il Partito Democratico, Forza Italia e il nuovo centrodestra. Davide contro Golia usa la metafora biblica il segretario bassanese del Carroccio Luciano Todaro per descrivere la sfida solitaria che attende la Lega Nord alle prossime elezioni provinciali di Vicenza, sola contro il resto del mondo. La candidatura del sindaco di Montecchio Maggiore, Milena Cecchetto, va contro la grossa coalizione che sostiene il primo cittadino di Vicenza, Achille Variati. Scaduto oggi il termine per presentare a Palazzo Nievo le candidature alla carica di presidente e consigliere provinciale in vista delle elezioni del 12 ottobre, alle quali è bene ribadirlo potranno votare solo i 1.571 candidati provariati, sul versante Carroccio rimanevano diversi nodi da sciogliere. In lista per il bassanese L'Alto Piano e Ufficiale ci saranno Valerio Lago, sindaco di Tezze sul Brenta, Mario Orio di Fozza, Giuliano Stivan di Sandrigo e Luca Vendramin di Pianezze. Sul fronte variati da Bassano confermate le candidature del consigliere di Forza Italia Alessio Savona e dell'ex assessore PD Mauro Beraldin, mentre sono quattro i sindaci del territorio in lista per un seggio Locchiera Luisetto di Nove, Franco Fabris di Molvena, Orio Mocellina di Pove e Morena Martini di Rossano Veneto. Luciano Todaro punta il dito contro la grossa coalizione PD Forza Italia Nuovo Centrodestra, contesta soprattutto la scelta di alleanza di Forza Italia. Miope, perché un voto provariati a presidente della provincia, sostiene Todaro, non potrebbe che essere poco favorevole agli interessi del bassanese. Variati assumerebbe infatti il ruolo sia di sindaco di Vicenza che di presidente di provincia, spostando gli equilibri e gli interessi lontano dalla città del Grappa. Passate le polemiche per le elezioni dei presidenti, iniziano le riunioni delle commissioni consigliari a Bassano del Grappa. Stasera è la volta della Commissione Affari Istituzionali, che avrà l'ordine del giorno dopo l'elezione dei vicepresidenti, la modifica al disciplinare per l'accesso e la sosta all'interno della zona traffico limitato in centro storico. All'orizzonte potrebbero esserci anche delle modifiche all'area di estensione della ZTL, anche se pare che queste verranno prese in una seconda fase. Nella riunione di stasera sicuramente si discuterà di cambiamenti di orario e modalità di accesso delle vetture in centro storico. E sono ripresi oggi i monitoraggi del Ponte Vecchio a Bassano, questa volta niente laser. Dei tecnici si sono calati con delle funi per studiare da vicino i problemi del monumento. La gravità è evidente, nel senso che ormai da un paio d'anni si vede che il ponte sta cedendo in diversi punti. Per fare però un progetto di restauro che sia qualcosa che va oltre il restauro fino a se stesso, bisogna avere dati diversi da quelli su cui si è lavorato fino ad oggi. Che il Ponte Vecchio sia malato è fuori di dubbio. Dalle analisi ricominciate oggi, dopo un primo rilievo con lo scanner laser condotto mercoledì 17, non potranno arrivare buone notizie, ma le risposte sulla gravità e i punti più critici sui quali intervenire per salvare il monumento. È l'inizio di un ciclo di quattro giornate dove saranno fatti dei rilievi direttamente sulla struttura. La vita specializzata che è qui con cinque persone coordinata da una figura dello staff del professor Modena sta andando direttamente sulla struttura fuori acqua, prelevando campioni immateriali, vedendo visivamente come è la situazione della struttura linea. Oltre a questo sono in corso ulteriori rilievi sotto il camminamento del ponte. Ultimata con la fine della settimana questa fase di rilevazione sul campo, i risultati partiranno per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Dile Ambientale dell'Università di Padova, a cui è affidato il coordinamento della fase cosiddetta di diagnosi. Verranno fatte ulteriori indagini direttamente da loro per comporre un quadro da qui a fine anno, massimo il mese di gennaio, che poi sarà un quadro a supporto della progettazione del restauro. Ed ora la cronaca, spacciandosi per un agente di varie imprese metallurgiche venete, aveva concluso l'acquisto di 40 tonnellate di rame con una ditta di loria. Dopo aver fatto ritirare la merce, l'uomo, un trentenne di Padova con diversi precedenti, appagato con due assegni che sono risultati, provento di un furto ai danni di un 46enne di Mareno di Piave. A scoprire la truffa i carabinieri di Riese Pio X, al momento irreperibile l'uomo è stato denunciato a piede libero. Domenica di gioco per centinaia di bambini bassanesi che hanno partecipato al tradizionale evento dedicato allo sport e per i più piccoli. Vediamo. Domenica di gioco e divertimento a Bassano con l'edizione 2014 di Città dello Sport. Centro storico e Prato Santa Caterina letteralmente invasi da bambini e ragazzi, oltre 2.000 alle presenze, che si sono potuti mettere alla prova con le varie discipline sportive proposte dagli atleti bassanesi. 58 le società coinvolte nell'iniziativa per 42 discipline tra pattinaggio, golf, pallavolo, baseball, sci, nuoto, tennis, scherma e molto altro. Vie del centro e piazze sono state per l'occasione allestite come vere e proprie palestre, con l'obiettivo di far conoscere ai più piccoli le diverse attività attraverso il divertimento. Da non dimenticare lo scopo benefico dell'iniziativa. Il contributo richiesto a ogni bambino al momento dell'escrizione è stato infatti devoluto a Città della Speranza, fondazione impegnata da quasi 20 anni nell'assistenza e ricerca sulle neoplasie infantili. Un'occasione per divertirsi e sorridere è stata la festa organizzata sabato pomeriggio a Bassano da un'associazione a dir poco speciale. Vediamo quale. I bambini che hanno questa malformazione la prima cosa che perdono è il sorriso e riportarli alla normalità vuol dire riportarli a sorridere, che è il primo modo che hanno di comunicare. Prima di parlare i bambini comunicano con il sorriso. Non poteva essere più nobile lo scopo della festa del sorriso organizzata dall'associazione Lavoriamo per un Sorriso Onlus, gruppo che ha oltre 10 anni di attività e che nasce come supporto alle famiglie con bambini affetti da malformazioni cranio-facciali. Eravamo delle famiglie con bambini affetti dalle labiopalatoschisi e che a un certo punto, consapevoli delle difficoltà che trovavamo quotidianamente, abbiamo detto che dobbiamo cercare di fare qualcosa per chi si trova nella nostra situazione. È nato l'acronimo LPS che sta per Lavoriamo per un Sorriso, ma sta anche per l'Abiopalatoschisi che è la patologia di cui ci occupiamo. L'associazione lavora proprio per aiutare famiglie e bambini. Fondamentalmente diamo supporto alle famiglie per cercare di affrontare questo problema che grazie alla bravura dei medici riesce anche ad ottenere dei risultati spesso miracolosi. E un grande risultato è quello che ha ottenuto anche la festa organizzata sabato a Santa Croce, a Bassano. Un evento in cui si sono riuniti bambini, famiglie, ma anche tante forze dell'ordine. Loro ci hanno conosciuti e hanno visto come lavoriamo, si sono fatti carico di darci una mano e ormai è da tempo che collaboriamo insieme per fare delle manifestazioni. Tutti insieme per condividere la gioia che può regalare un sorriso. E un altro messaggio importante è quello arrivato a Bassano da Paolo Simoncelli, padre di Sicchi, la campione di motociclismo deceduto due anni fa, ospite a Bassano in occasione della festa giallorossa. Sentiamo. Andiamo spesso nelle scuole, incontriamo spesso i giovani e questo invito qui non si poteva rifiutare. Ospite d'eccezione quest'anno a Bassano alla festa dello sport è Paolo Simoncelli, papà di Marco, il campione motociclistico morto nell'ottobre 2011 durante una gara nel circuito di Sepang. Il padre da quel giorno non ha mai smesso di portare il suo nome e la sua storia in giro per l'Italia per diffondere un messaggio, che lo sport è importante e serve per la vita. Fare lo sport è importante, ma soprattutto bisogna inseguire un obiettivo nella vita, che sia sportivo, che sia di lavoro. Ed è proprio questo che ha raccontato a tutti i ragazzi che sabato hanno partecipato alla festa giallorossa, momento di presentazione degli atleti di calcio e hockey dai settori giovanili fino alle prime squadre. Una giornata insieme per sancire un sodalizio importante, nel nome dei colori della loro città. Devo dire che i ragazzi mi danno un po' di sollievo, mi fanno sembrare meno difficile il nostro percorso. Il mio percorso è anche quello della mamma. Con Paolo Simoncelli e anche Alessandra Borgonovo, figlia del calciatore morto un anno fa, affetto da sclerosi laterale e amiotrofica, è divenuto un personaggio simbolo della lotta alla malattia. Un rapporto padre-figlio forte, come quello di Paolo Simoncelli, che con Marco aveva condiviso la sua carriera sportiva. Ed è per questo che ha approfittato dell'occasione per lanciare un messaggio ai genitori dei giovani atleti, un messaggio utile per lo sport e per la vita. L'importante è che i bambini o i ragazzi diano il massimo, sono ultimi, devono arrivare per lottare penultimi. Questo è quello che ho sempre detto a Marco e che lui l'aveva capito benissimo. Nel momento in cui tu dai il massimo, arrivi il penultimo, arrivi anche ultimo, ma hai dato il massimo merito di rispetto. Questo è quello fondamentale. In chiusura di telegiornale vi ricordo l'appuntamento questa sera con il cinema di Rete Veneta. A partire dalle 21.05 vi proporremo il film Un provinciale a New York con Jack Lemmon, una divertente commedia sulla nevrosi delle metropoli e sulle manie dei provinciali. Ed ora nel ringraziarvi per la cortese attenzione e nell'augurarvi un buon proseguimento di serata, vi lascio al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Sario di Bassano del Grappa. Arrivederci. De Stefani Giovanni, De Taddeo Bartolomeo, De Tringo Giovanni, De Tori Giovanni, De Vitti Salessio, De Voto Giuseppe, De Zotti Italiano, Di Ann Giacomo, Di Anna Paolo, Di Bella Leonardo, Di Benedetto Panfilo, Di Bernardi Alfredo, Di Berardino Giacomo. Grazie.